Un plotone di Darkwatch è caduto in preda di un'imboscata perdendo un prototipo di carro a vapore denominato Coyote. Il recupero... Aspetta a te! Cioè, a me! Eh, vabbè, sapevo che andava a finire così. Il Coyote non ha impedito la distruzione del convoglio. Ah, è quello di il Coyote? Beh, più di uno ce ne sono. Non ci sono molti cadaveri. Forse i guardiani di Darkwatch sono ancora vivi. Ok, allora andiamo a salvarli? Il Coyote sembra ancora in uso. Oh, figata! No, ma ragazzi! Ladder è fortificato di accessi alla città. La nostra unica speranza è un assalto frontale. Sì, va bene qual è la cosa più divertente. Il modo con cui si guida questo... questo veicolo. Non dovete usare il tasto X quadrato. No, 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 dovete usare entrambi i tasti di controllo dell'analog. L per andare avanti. L per accel... Il tasto dell'analog è L per accelerare. Il tasto analog R invece per girare. No, sicuramente questo. Che comandi della madonna. Aspettami! Non lasciarmi indietro, dai! Degli ammattaputi! A me non mi lascia nulla! Dai, l'chilo sotto... AAAAAAA! Non avrò si appoggiati ambiziosi. Ci sono i sui figli maligni o di me. attento! Gagher! Occhio! Vai là! Ooooooh! No, 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 no! Ma i giapponesi di merda! Forza, facciamogli il culo! Porca puttana! Aia! Lo sapevo! Sì, dai, venite qua. Esistiamo io, là. Aia! Oh! Muoviti, muoviti! È la teoria di difesa! Che cavolo! No, no, così non si fa! Aia! Aia, bastardo! Questo bastardo su sto foglio in mano e dalla faccola di io la voglio sparare! Ecco, il mio compagno è un po' di rimancio. Oh, cazzo, l'ho pure schiacciato! No, no, no! Dove le panci? C'è l'escort, dove sono? No! No! Aia! Ancora! Quale cagli di corrente ci sono? Ma guarda quello lì! Che ammazzi, per l'amor di Dio! No! Si è fatto ammazzare! Si è fatto ammazzare! Dai, allora! Oh, cos'è successo? Che salto, che salto ha fatto, ragazzi! Che sta arma che sta... Il microfono c'ha... C'è il sacco! Oh, oh! Non viene a scappare, amico! Ops, scusa! Ah, ragazzi, volevo informarmi quale... Ancora sei morto, basta! Ah, volevo informarmi... Informarvi, ragazzi, quale sarà il prossimo gameplay che farò... Forse anche l'ultimo... Sarà Batman Arkhamorinis... E quando dico un altro gameplay perché... Perché per il momento... Volevo fermare con quei gameplay e... Aprire una nuova... Un nuovo tipo di... Di attività sul canale... Cosa? Non ve lo dico... Magari... Più avanti, più avanti... Una volta finito Batman Arkhamorinis... Lo vedremo più avanti intanto... Rimaniamo concentrati qua... Sfughezzola... Pensaci tu al sigillo! Io ti copro il culo! Spacolo e dannato il sigillo! Distruggilo! Oh, bravo! Manca un solo sigillo! Oddio! Escorto dovunque! Ma che è? Siamo ad... Ma che siamo ad Arcole? A casa di Berlusconi! Ehi, dai, dai! Isacro 94! Salva la situazione! Oh, nega! Grazie! Da qui proseguiamo a piedi! Nooo! Sembra che gli agenti si siano barricati in questa caverna! Cerchi sopravvissuti! Va bene, va bene! Voi andate avanti! Intanto io parcheggio il... Coyote! Vediamo! Un parcheggio qua... Ehm... Oh! Chi è quel mio editore del pifero che ha parcheggiato la sua macchina in doppia fila! Oh! Guardate che chiamo il poliziotto infernale gli faccio mettere una bella multa! Ci sono arrivati addosso con una multa! Siamo arrivati qui a fatica! Era l'unica cosa che potevamo fare! Eccoli, arrivano! Mie editori! Sì, è l'unico duro guardiari! Mamma mia, oh! Devo stare un attimo in pace! Un attimo, un attimo, un attimo! Anche le mie editori! Non capo! Non capo! Eh la cappa! Adesso hai un mezzo tanto! Non capo! Eh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E la paghi questa.